Si è svolto questa mattina presso l'hotel Torre Oliva di Policastro il primo convegno italiano multidisciplinare la responsabilità medico-legale in cardiologia, che ha messo a confronto gli attori della filiera interventistica nella sanità in caso di denuncia da parte di un paziente. Al dibattito hanno preso parte esponenti delle forze dell'ordine, avvocati, procuratori della Repubblica e professori universitari. Dottor Petraia, questo convegno indubbiamente nasce da un'esigenza, ci può spiegare quale? Sì, in effetti nasce dall'esigenza di far dialogare tutti i soggetti che fanno parte della filiera dell'assistenza quindi dal paziente, dall'infermiere, far dialogare il medico con il magistrato inquirente, far dialogare il magistrato inquirente con il giudice far dialogare in questa assemblea democratica di opinioni e far entrare anche l'opinione della Polizia Giudiziaria. Colonnello, le operazioni peritali devono avvenire nel rispetto delle regole? È sempre così? Le operazioni peritali avvengono nel rispetto delle regole, non potrebbe essere diversamente. Tuttavia oggi effettivamente metteremo in evidenza per quello che mi riguarda nella valutazione del danno alcuni profili un po' critici nella valutazione del danno per quanto riguarda l'aspetto quantitativo del danno in quanto soprattutto in tema di responsabilità civile assistiamo a un discorso un po' delicato che è quello di il legislatore ha previsto praticamente la valutazione del danno attraverso delle tabelle rinviato attraverso le tabelle, attraverso la legge Balduzzi che è un po' il cuore del tema di oggi ma in effetti il legislatore ha rinviato a una tabella che non c'è. Professore, qual è il ruolo del medico legale e come si deve approcciare ad un paziente che ritiene di aver subito un danno? Oggi sempre più spesso ci sono dei contenziosi medico-legali per presunta malasanità. Il medico legale che è opportuno sia specialista in medicina legale e non un medico che si presta per la medicina legale pur non avendo delle conoscenze specifiche della materia deve innanzitutto analizzare il caso e valutare se effettivamente ci sono o meno delle presunte responsabilità che poi possano essere in qualche modo sostenute in un contenzioso e poi soprattutto deve chiarire bene con il paziente che ha subito un presunto danno se effettivamente il danno possa essere valutato in termini medico-legali. Quali sono gli errori medici maggiormente denunciati? Ci sono dei dati del Tribunale dei diritti del malato di cittadinanza attiva che vede ai primi posti tra gli errori sia diagnostici che terapeutici la ginecologia ossetricia, l'ortopedia e l'oncologia.